C'è posta per me, chissà che cos'è, sarà l'ammessione a quel corso di macramè. Oh no, è una multa, l'ennesima, ahimè. E' un chilometro sesto della 387, ci sono due distributori, uno di benzina, l'altro di dolori, io vengo da tonori e illusioni, non ne ho. Sono pendolare da una vita, sia in discesa che in salita, sempre in carreggiata, mai troppo spedita, seppure vuota e dritta e la strada intorno a me. Sessanta i minuti di un'ora, sessanta i chilometri orari che faceva la mia utilitaria, che dopo il lavoro tornava da te, da te. Un lampo di luce beffarda, un'imboscata in fingarda, dodici multe salate, lacrime molto salate, e il sapore di presa per culo, più atroce che c'è. Giudice di pace, solo tu puoi darmi pace, che pagare non mi piace, sei inocente e sono io. Non son stata mica audace, è il sistema che farlace, il mattino a loro in bocca, ma soltanto sei per voi. Funzionario, mercenario, tu vuoi metterla nell'anno a tutto quanto il Campidano, e agli onesti come noi. Monserrato qui ci spenna, manco fossimo Erdon Senna, o impennassimo su d'ossi, come Valentino Rossi. Non ho più punti in patente, e con me ho un sacco di gente, solo punti di sutura, e mi aspetta la clausura. Ascoltatemi i miei belli, lì non c'erano i cartelli, e noi presi per zimbelli, e anche un po' per i fondelli.